Siamo tornati a Frassinetto perché un problema, forse il più grave perché riguardava la viabilità e la sicurezza stradale è stato risolto però tanti altri sono ancora da risolvere, come ad esempio campo sportivo piuttosto che vecchia scuola. Sì, a parte le promesse che ci sono state poi non è cambiato niente, comunque ormai da anni il campo sportivo è sempre abbandonato è stato demolito tutto, tutte le strutture che c'erano con la promessa che sarebbero state ricostruite il Comune si è preso la proprietà di tutto il terreno del campo sportivo con la promessa buttiamo giù tutte le strutture che non sono a norma le ricostruiamo, poi ogni anno si farà, si farà, si farà, viene messo nel piano triennale dei lavori pubblici sempre spostato di anno in anno e niente, è sempre tutto uguale, amianto abbandonato in giro, erba alta ci sono stati ragazzi a volte a tagliare l'erba per cercare un pochino di giocare invece che nella strada, nel vecchio campo sportivo però è tutto abbandonato. Insomma anche il fatto che ci siano comunque dei residui di amianto, questo forse è l'aspetto più grave. Sì, 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 non è certo una bella cosa giocare in mezzo all'amianto insomma. Va bene, questa è la questione del campo sportivo, poi c'è la vecchia scuola che chiaramente adesso non è più in funzione e voi dite insomma è un peccato vederla comunque lì, uno stabile vuoto, ma è un peccato anche a livello se vogliamo economico perché comunque potrebbe essere una risorsa per qualsiasi altro tipo di progetto. Certo, certo, è un peccato abbandonato soprattutto per chi c'è stato a scuola come noi, insomma come i vecchi ragazzi del paese vedere l'abbandonata che cade a pezzi con vetri rotti perché poi ci sono stati i vandali che sono entrati e hanno distrutto tutto. C'era stato fatto un centro di aggregazione sociale per il paese, poi piano piano è stato abbandonato, non c'è stato fatto niente ma potrebbe, non è che deve essere necessariamente usata per il paese, potrebbe essere venduta anche a un privato che ci faccia a casa sua, che la rimetta a posto. Sarebbero comunque soldi che il comune potrebbe prendere, potrebbe anche usare per il paese. Certo, i famosi finanziamenti che poi potrebbero essere rispalmati su altri progetti. Poi c'è la questione dell'ufficio postale che adesso non c'è più, il discorso anche dell'autobus che vediamo adesso qui c'è un piccolo pulmino che fa un po' da navetta tra qui e la città quando ce n'è bisogno però voi dite, insomma, alla fine questa tranquillità ci va anche bene. Sono però questi progetti un po' dimenticati che non dovrebbero essere tali, insomma. Sì, sì, è proprio così. Gli autobus non vengono praticamente più, solo la domenica fanno qualche corsa diretta a Rezzo Frassinetto, se no fanno a Rezzo Rigutino e da Rigutino c'è questo pulmino che fa la spola tante volte al giorno, magari anche troppe rispetto al necessario, mentre prima l'autobus dal centro di Rigutino veniva direttamente in giù a Frassinetto, invece ora va verso il Planet, praticamente fa la stessa strada però fermandosi da un'altra parte, mentre verso Castion Fiorentino Cortona passano tanti autobus, passano vecchi LFI, diciamo, quello che non era Atam, che sarebbe stato sufficiente quello, mentre la vecchia Atam veniva giù a Frassinetto, anche se viene 4-5 volte al giorno è sufficiente, non è che c'è tutto questo traffico, però sarebbe un servizio diretto molto più comodo anche per le signore anziane di dover prendere il pulmino qui, scendere al Planet, aspettare l'altro autobus che a volte non si incrociano, si devono aspettare, insomma la confusione non è piacevole.